Cari amici, buongiorno, reduce dalla conferenza di Parma, grande successo, pieno di persone, è stato molto bello, ringrazio Francesco l'organizzatore. Oggi sarò a Verona, presso la locanda degli Scaligeri, via Bentegodi 7, alle ore 15, vi aspetto, ingresso naturalmente a offerta libera, per chi vuole trattenersi ci sarà anche un aperitivo, una cena da 8 a 25 euro, naturalmente tutto facoltativo. Martedì 7 maggio sarò a Trieste con Marco Belviso e il Corsaro della Sera per presentare Codice Ratzinger, il 25 sarò a Catania, il 26 a Palermo con Don Alessandro Minutella per un evento molto importante di cui vi parlerò nei prossimi giorni. Allora, commentiamo purtroppo con desolazione una iniziativa che vuole chiedere le dimissioni di Papa Francesco. Naturalmente Aldo Maria Valli non poteva farsi sfuggire questa ennesima suicidiaria iniziativa e ha ripreso l'articolo intitolato i crimini e le eresie di Papa Francesco. Ebbè, certo, i papi da sempre sono eretici, sono criminali. Il dolce Cristo in terra che fa crimini ed eresie. Le loro cause ed effetti e le azioni da intraprendere. Non mi sembra che abbiate le idee molto chiare, veramente. Richiesta di dimissioni di Papa Francesco. 2 maggio 2024, Santa Tanasio di Alessandria. Dal 2013 le parole e le azioni di Papa Francesco hanno causato una crisi senza precedenti nella Chiesa Cattolica. Uh, ma davvero, accidenti, non lo sapevamo. E hanno causato un grave danno alla Chiesa e al mondo intero. I membri della gerarchia e della Chiesa hanno il dovere di agire per evitare che Francesco causi ulteriori danni. Chiediamo quindi a Papa Francesco, io ci avrei aggiunto al buon Papa Francesco, di dimettersi dall'ufficio papale, è certo, l'ufficio papale, il munus petrino, no? Di pentirsi e fare penitenza per le sue azioni. Se non lo farà, chiediamo ai cardinali, ai vescovi della Chiesa Cattolica, ecco, chiedetelo a Monsignor Schneider, di chiedere a Papa Francesco di dimettersi dalla carica di Papa, se rifiuta di dimettersi o abbiura le eresie che ha sostenuto, chiediamo che dichiarino che ha perso l'ufficio papale. Ecco, complimenti. Complimenti. Magari una, come posso dire, una soluzione più efficace sarebbe stata quella di mettervi una corda al collo, salire su uno sgabbello e poi lasciarvi penzolare. Ecco, questa sarebbe stata una soluzione più efficace di quella proposta, perché richiedere le dimissioni di Papa Francesco è un suicidio completo, è un suicidio totale. Per quale motivo? Perché se tu chiedi le dimissioni di Papa Francesco, vuol dire che lo riconosci legittimo Papa, no? Vuol dire che lui aveva l'ufficio, il munus petrino. Quindi, primo, stai screditando orrendamente la figura del Papa, perché in questi dieci anni di apostasia completa viene completamente meno la promessa di Cristo, viene meno l'infallibilità papale, viene meno l'assistenza dello Spirito Santo, viene meno tutto per quanto riguarda la sacra autorità del Pontefice. Quindi una figura orribile. Ma soprattutto il risultato più ovvio e automatico qual è? Che se Papa Francesco si dimette, rimangono comunque validi i suoi falsi cardinali, i suoi 140 falsi cardinali, che entreranno in conclave, non tutti, chiaramente gli elettori, e vi regaleranno un altro antipapa, senza munus petrino, senza assistenza dello Spirito Santo. E quindi si torna sulla giostra. Avete capito che cosa avete ottenuto? Se fossi in Papa Francesco vi darei retta, mi dimetterei, in modo che, comunque, io me ne vado alle Bahamas senza bisogno di organizzare il funerale finto, eccetera, eccetera, e lascio proseguire a antipapa Giovanni XXIV il mio compito, cioè quello di distruggere la Chiesa Cattolica. Ecco. Anche perché, vedete, no, i sedevacantisti, perché il sedevacantismo non sta in piedi? Perché se l'ultimo Papa fosse stato Pio XII, oggi non ci sarebbe più una gerarchia papale, una gerarchia ecclesiale valida, quindi non ci sarebbero più vescovi, non ci sarebbero più preti validamente ordinati. Questo non può essere. Questo non può essere. Però, se voi continuate così, non ci sarà più un Papa valido, non ci saranno più vescovi validi, non ci saranno più sacerdoti regolarmente ordinati. E quindi verrà meno uno dei quattro elementi che rendono valida la Messa. E quindi voi, con questa richiesta di dimissioni di Papa Francesco, state facendo estinguere la transustanziazione sul pianeta Terra. Capite? Capite che bell'affare state provocando? Con la vostra, come posso dire, ostinazione a non voler comprendere e a non voler vedere l'ovvia banalità. Ecco, guardate qui, guardate qui in questa slide che metto anche in inglese, i quattro passaggi, perché Brigoglio non è Papa. Vedete? Facilissimo, non è difficile. Sono dati oggettivi. Non sono cose che ha scritto Andrea Cionci, non sono suggestioni, illazioni, è la Universi Dominici Gregis e il diritto canonico. Tra le condizioni ci deve essere la vacanza della sede per rinuncia a norma del 332. Il 332 chiede la rinuncia al munus, Benedetto ha dichiarato il rinuncio al ministerium, quindi tra le condizioni. Se le condizioni non sono state rispettate, l'elezione non la invalida. Ecco perché Bergoglio non è il Papa e voi volete far proseguire la linea antipapale di Bergoglio, volete estinguere la Chiesa Cattolica. Mi dispiace molto che tra i firmatari di questa petizione ci sia John Westen di LifeSite News, eppure John Westen l'ha capita la cosa, gliel'abbiamo spiegata attraverso il professor Eric Walters, ha fatto pure un'intervista, Bergoglio non è il Papa, non ha mai avuto il munus petrino, quindi non ha nulla da cui dimettersi, non ha nulla da cui dimettersi, se voi lo fate dimettere e lo riconoscete implicitamente come Papa, vi dovete tenere tutto quello che lui ha fatto fino ad oggi. Tutte le riforme dottrinali, la rugiada, le paciamame, i falsi cardinali, eccetera, eccetera, vi dovete tenere tutto, avete capito che è furbata richiedere le dimissioni, ora io non so se gli altri professori hanno mai sentito della questione, se l'hanno sentita e non l'hanno capita è un grosso problema, è un grossissimo problema, il professor Ksasniewski è stato da me informato della questione e se ne è infischiato, Maria Guarini editor di Chiesa e Postconcilio sicuramente non può non saperlo, perché è italiana, quindi la questione del codice Ratzinger della Sede Impedita la conosce benissimo, chiedo un aiuto a tutti voi, se avete dei contatti con questi altri firmatari, di far loro pervenire in lingua i tre documentari che troverete su www.codiceratzinger.eu, questi tre documentari di Essire, Intelligenti, Pauca e Rederazione sono stati tradotti in tutte le lingue che questi firmatari possono senz'altro comprendere, quindi attenzione alla trappola, attenzione alla trappola, ora secondo me questa cosa è stata fatta in buona fede, perché tante persone non conoscono la questione, tranne John Weston che la conosce bene, non escluderei, non escluderei la possibilità che una simile richiesta possa essere cavalcata dalle solite gerarchie di Cardinaloni Unacum, quelli che continuano a pregare per la conversione di Papa Francesco, quelli che continuano a eccepire sulle eresie formali e materiali di Papa Francesco senza osare mettere in dubbio la sua legittimità. È certo perché una mossa del genere salverebbe tutti, farebbe contenti tutti, Bergoglio se ne vale Bahamas e finalmente si rilassa, prosegue la sua linea successoria antipapale, la transustanziazione sparisce dal mondo, i Cardinaloni sia quelli di nomina papale che quelli di nomina antipapale continuano a conservare le loro prebende, i loro 5.000 euro al mese e così siamo tutti contenti e vi hanno fatto fessi, vi hanno fregato per l'ennesima volta e non stupisce che Aldo Maria Valli sia stato l'alfiere di questa intelligente iniziativa, è lui che l'ha ripresa e l'ha tradotta, l'ha riportata sul suo canale dove attraverso la traduzione automatica si potrà ben rivedere e sono convinto che anche Marco Tosati adesso fra poco lancerà questa bella iniziativa. Capite? Papa Francesco si dimette tutti contenti, tutti felici, lui va alle Bahamas, prosegue la linea successoria antipapale, i 140 falsi cardinali continuano a beccare il loro stipendio faraonico, la transustanziazione sparisce dal mondo, la chiesa caronica visibile finisce, Bergoglio ha vinto, l'Agnosi ha vinto, la massonia ecclesiastica ha vinto, il globalismo ha vinto, ha spacciato la chiesa e anche i cardinali di nomina papali continuano a rimanere seduti sui loro cuscinetti rossi e a vivere nelle loro belle case, nei loro begli appartamenti. Questa è la soluzione degli Unacum tradizionalisti. Complimenti, complimenti vivissimi, ma tanto vinceremo lo stesso con o senza di voi. Un caro saluto a tutti.